In attesa di qualche rinforzo, che pure dovrebbe arrivare come annunciato dal presidente Gabriele Marchesani, l'Europovini si assicura in panchina per altre due stagioni coach Piero Cohen. Sotto la sua guida, il tecnico odorico è arrivato a fine novembre al posto di Sorgentone, sono arrivati 13 successi su 14 partite, un escalation di risultati che ha issato la squadra al secondo posto del girone C, posizione che si vuole difendere fino al termine della stagione regolare dietro la Lepre Sansevero. Insieme a Cohen è stato confermato anche il vice Roberto Perricci e non solo. Il lavoro di tutto lo staff ci sta pagando, sia per quanto riguarda la parte atletica del professor Falasca, che per nostra fortuna anche lui l'anno prossimo sarà con noi, perché aveva già il contratto firmato, io sono estremamente felice che anche lui farà parte dello staff perché è un elemento veramente preziosissimo per noi. Quindi per quello che mi riguarda, a livello professionale, è un momento estremamente gratificante, perché come diceva lei, in questo momento qui essere al centro di un rinnovo di contratto per due anni è una cosa estremamente gratificante, che ti fa pensare che effettivamente il lavoro che stiamo svolgendo e che sta svolgendo viene in qualche modo riconosciuto. Piero Cohen, insieme allo staff tecnico, ha portato la sua professionalità, la sua preparazione in questa società, in questa squadra. Voi che cosa avete trovato qui a Chieti? Io, come dissi allora, già dal primo giorno ho trovato veramente una società molto organizzata, che come sta dimostrando è pronta anche per eventualmente fare un salto di categoria, perché credo che ne abbia chiaramente le basi. Ho trovato un pubblico al quale mi sto sempre di più affezionando e che ringrazio, perché è stato molto importante, ci ha dato veramente una mano importante anche loro, soprattutto in trasferta, ma anche in casa, dove gli spettatori stanno aumentando di partita in partita. A proposito dei valori, probabilmente la società sta cercando proprio un valore aggiunto, in sede di mercato, ci si guarda intorno, secondo il coach Piero Cohen, questa squadra dove può essere rinforzata? È già forte? Sì, sì, noi siamo una squadra, come sta dimostrando, forte, che sta facendo molto bene. La nostra forza è stato questo equilibrio che abbiamo trovato con nove giocatori, praticamente, che come di abitudine si intercambiano durante la partita. Durante i playoff si giocherà ogni tre giorni, addirittura ogni due giorni, quindi il dispendio di energie sarà estremamente importante e avere un giocatore in più può essere a volte indispensabile. Ci tengo a sottolineare il fatto che comunque sia non andremo a fare turnover, nel senso che eventualmente, se arriverà un giocatore, sarà un under, perché ritengo che questi giocatori che hanno fatto così bene meritano di giocarsi playoff fino in fondo. E quindi noi siamo eventualmente alla ricerca di un under, che possa allungare le rotazioni e darci ulteriore soddisfazione.